Le sensazioni sono positive perché i ragazzi stanno dando il massimo, sono contento di aver continuato ancora questa esperienza a Sant'Albano perché c'è la voglia, c'è la voglia di fare quel salto di qualità, quel salto di categoria in poche parole che da troppi anni che ci proviamo non riusciamo. Ci manca ancora qualcosa se vado a fare sull'organico, sulla rosa, mi manca ancora qualcosa, soprattutto nel reparto offensivo, comunque in questo momento siamo 20 ed è un'ottima rosa per questi 20 giocatori che ho. Il problema non avendo la Juniore a Sant'Albano come ho fatto sabato in Amichevole ho pescato 4-5-2008 che essendo dei validi ragazzi hanno ancora da maturare un po'. Comunque cercheremo ancora fino a fine mercato di cercare qualche giocatore che possa darci una mano importante.